Per Giorgia! Per Giorgia! Per Giorgia! Per Giorgia! Per Giorgia! Per Giorgia! Forza signori, uniamo le forze! Questo è un grande schifo! Questa gente deve andare a casa! A casa, dovete andare a casa! Siete benvenuti! Tutti a casa, tutti a casa! Signori, questa gente si vende per un euro a profugo! Stanno riempendo Roma di mannessa! Tutti a casa! A casa! Vergogna! 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 Vieni batti! Vieni batti! Vieni batti! Signori, questa gente fa la lotta ai scafisti, ma voi dovete sapere che i peggio scafisti sono loro, sono loro, perché andate a casa? Signori, dobbiamo farci sentire la voce del popolo e ora che ci facciamo sentire tutti insieme, non è possibile che siamo qui in mezzo a una piazza, non siamo rappresentati, noi di Casale San Nicola sono 50 giorni che torniamo nelle macchine, non siamo più padroni nella casa, vogliono aprirci un centro profughi nelle nostre case, non abbiamo più diritti perché questa gente si vuole mangiare Roma!